Carlo Sceglia negli studi di TV Siti, il presidente dell'Associazione per il rilancio di Torre del Greco, c'è preoccupazione per il rischio chiusura del reparto di ginecologia ostetricia della clinica di Santa Maria Labruna, una notizia che desta molta preoccupazione e sarebbe un'ennesima perdita per questa città. Sì, l'ennesima perdita, abbiamo ascoltato e sentito le preoccupazioni della proprietà della clinica con i dipendenti che lavorano, che ci hanno posto questa problematica. Si rischia ancora di perdere l'ennesimo presidio sanitario che c'è sul territorio di Torre del Greco, un presidio fondamentale per far nascere bambini nel comune di Torre del Greco. Noi questo lo dobbiamo scongiurare. Un presidio fondamentale, lo ricordiamo, considerato anche il fatto che nel pubblico a Torre del Greco non c'è più un polo di maternità. All'ospedale Maresca questo servizio manca ormai già da anni. Sì, dopo il ripotenziamento dell'ospedale Maresca questo servizio dalle strutture pubbliche non è più offerto, è garantito solamente da questa clinica, dalla clinica Santa Maria Labruna. Facciamo un appello alle istituzioni a livello locale e a livello regionale. L'appello sicuramente noi lo facciamo al comune, nella persona del nostro sindaco Giovanni Palomba, ma anche verso i riferimenti regionali, visto che la sanità regionale è finalmente uscita dal commissariamento, di fare finalmente una programmazione seria, concreta, che queste strutture possono andare avanti e possono ricevere quei convenzionamenti e quelle convenzioni per offrire servizi importanti e fondamentali nelle città.